No, diciamo che quando io mi metto a scrivere, vi chiudo in una stanza e comincio a scrivere, non mi vengono le cose comiche, ma penso alle cose più magabre, si va da un'estremità all'altra, un po' l'essere artisti, in qualche modo, ci sono artisti che insomma fanno delle sculture, che sono anche dei grandi comici, che però fanno delle sculture o dipingono dei quadri che hanno del dramma dentro e io invece mi sono messo a scrivere liberamente ispirato anche da quello che è il tema di Dario Argento, quello che si è fatto un po' vivere Dario Argento. Scrivendo un delitto dopo l'altro, anche tanti, diciamo che il tema del femminicidio era un po' quello più attuale, diciamo. Allora io ho cominciato a scrivere tutta questa storia, però me la sono, sin dall'inizio, un po' immaginata come se un domani ci fosse la realizzazione di un film e con questo dico, vabbè, quello è il sogno, però intanto scriviamo e vediamo cosa viene fuori.